In provincia di Bari indignazione e sconcerto si diffondono a causa della tragica morte di un gattino randagio ad Alberobello. La vittima chiamata Jerry faceva parte di una colonia felina accudita da una residente locale. Il cucciolo è stato trovato a zuppo d'acqua e praticamente congelato dalla donna che ha denunciato il gesto crudele di una ragazzina. Un video circolante sui social ha rivelato che la stessa sera del ritrovamento la ragazza aveva spinto il gattino in una fontana pubblica come parte di un gioco registrando la scena con l'accompagnamento sarcastico di un'amica che scrive Ciao Amo, beccati un po' di notorietà. Il fatto è avvenuto vicino al negozio della donna che si prendeva cura del gattino già in precarie condizioni di salute. Le temperature notturne estremamente basse hanno causato uno shock termico letale per il gattino che è morto tra atroci sofferenze. La denuncia dell'accaduto è stata diffusa su Facebook suscitando indignazione sociale. La donna ha ricostruito la dinamica dell'evento e ha annunciato che ha segnalato il caso all'autorità di polizia coinvolgendo anche la presunta autrice del gesto, una minorenne. La comunità ora chiede giustizia per il povero animale e condanna l'atto insensibile compiuto per divertimento sui social.